Somma di due funzioni supponete avere una funzione f e una funzione g e definisco la somma nel seguente senso che per ogni valore della variabile indipendente x prendo il valore f di x e ci sommo g di x questo numero è il valore di h del punto x quindi geometricamente ho due funzioni la funzione h e nel punto x mi interessa il valore di h del punto x allora prendo il valore di f del punto x prendo il valore di g del punto x e sono questi due numeri questa è la funzione che è la somma ok? qual è la derivata della somma di due funzioni? dovete capirlo non memorizzare e ripetere come un disco eh? è evidente se uno si ricorda cos'è una derivata questa ha proprietà che la derivata di una somma di funzioni è la derivata delle somme scusatemi la derivata di una somma di funzioni è la somma delle derivate è evidente è un teorema banale che ognuno di voi dovrebbe essere in grado di dimostrare senza avere attacchi di ansia o che ne so io perché? uno si chiede cosa è una derivata? una derivata in ultima analisi è un rapporto incrementale io non ho opportuno limiti d'accordo ma nasce come rapporto incrementale quindi prima cerchiamo di capire cosa fa un rapporto incrementale della funzione H qual'è il rapporto incrementale della funzione H? una funzione H ma qual'è la funzione H? la funzione H è F più G quindi qua sta dicendo questo è il valore di H nel punto X più delta X e questo è il valore di H nel punto X avete appena scritto esplicitamente il rapporto incrementale della funzione H dalla proprietà elementare dei numeri reali che voi conoscete già da tanti anni dovreste sapere che queste parentesi potete associare i numeri nel numeratore come vi pare associateli in maniera creativa allora non focalizzatevi su questa parentesi aprite questa però ovviamente quando lo fate perchè non ho fatto tutti i passaggi lascio voi dove è il cancellino? mettete il display lì eccola quindi proprietà associativa non fissatevi sull'associazione che qualcuno vi da riassociate come vi pare allora non fissatevi su questi apritele toglietele dai piedi però quando lo fate dovete però stare attenti a non fare piccoli errori è evidente che quando apro quella parentesi questo mi diventa meno nespà? d'accordo? a questo punto potete associare le f assieme e le g assieme quindi questo f lo associate a lui e questo g lo associate a lui e quindi alla fine ecco ho saltato un passaggio ma credo che l'avete capito io riscrivo così ho semplicemente avvicinato le f e avvicinato le g quindi a questo punto uso la proprietà distributiva in fondo tutto questo è moltiplicato così no? allora ridistribuisco in maniera che mi è più che mi fa che seguo un po' dovete essere un po' creativi quando ho fatto la matematica quindi questo lo riscrive così come era prima che io cancellassi a questo punto vedo che il rapporto incrementale della somma è uguale alla somma dei rapporti incrementali e quindi si concorda subito che la derivata di una somma è la somma delle derivate perché? perché una derivata è un rapporto incrementale che poi questo quando vado a fare il limite per delta x che tende a 0 per andare a studiare cosa fa h perché questo è il rapporto incrementale di h quando vado a fare il limite di questo per delta x che tende a 0 vado a calcolarmi la derivata di h ma questo termine qui mi tende per delta x che tende a 0 alla derivata di f e questo quando delta x tende a 0 mi tende alla derivata di g ovviamente la somma si conserva cioè è banale questo teorema non va imparato a memoria va imparato con la pancia dovete capirlo non imparare a memoria dovete capire le cose quindi un teorema che io la cito così perché c'è un motivo che l'operatore è derivata, applicata a questa funzione questa funzione linguaggio che uso attenzione vedete che è la somma di due funzioni questo primo pezzo è una funzione moltiplicata per a per una costante costante si intende che non dipende dalla variabile dipendente questa è una nuova funzione questa è una nuova funzione faccio la somma di questa funzione questa si dice una combinazione lineare di f e di g si dice una combinazione lineare di f e di g quindi l'operatore di derivata applicata a una combinazione lineare di f e di g dove f è moltiplicato per un numero a e g è moltiplicato per b è questo e vedo che la derivata di una combinazione lineare è la combinazione lineare delle derivate e i matematici e i fisici dicono che l'operatore di derivata cioè questo signore qui è lineare cioè rispetta le proporzioni se vogliamo dire cioè la derivata di una combinazione lineare è la combinazione lineare delle derivate ricordate queste parole le useremo nel corso ma è banale questo teorema l'abbiamo appena dimostrato perchè abbiamo dimostrato questo la derivata di una funzione è uguale alla costante per la derivata abbiamo appena derivato il teorema che la derivata di una somma di funzioni è la somma delle derivate quindi questo è ormai banale allora c'è un'altra teorema e per dimostrare ho bisogno del resto di questa devo fare delle premesse e quindi probabilmente finiremo per dimostrare domani immaginate di avere una funzione f di x e un'altra funzione g di x e fate il rapporto dei due costruite quindi una funzione h di x uguale al rapporto dei numeri chiaramente questa funzione è definita dove g non è zero se la funzione g è zero avete scritto una cosa che non funziona non potete dividere per zero quindi questo è vero questa funzione h è ben definita solo nei punti dove il denominatore non è nullo quindi di nuovo avete le due funzioni e cosa calcolerete? dovete adesso lo farò perché lascio a voi divertirvi prenderete nel punto x nella funzione h prenderete il rapporto questo diviso questo e lo metterete qua cambiato il valore di x prenderete il valore qua diviso il valore qua e scrivete giù e calcolate e disegnate e tracciate la funzione h qual'è? la derivata di questo allora prima cosa cos'è una derivata? in ultima analisi è un rapporto incrementale quindi dovete chiedervi cos'è il rapporto incrementale questo possiamo farlo adesso per poi calcolare per arrivare al teorema devo fare qualche considerazione in più che prenderò adesso la lezione ma il rapporto incrementale lo possiamo farlo subito è h nel punto x più delta x meno h nel punto x questo è il rapporto incrementale di una qualsiasi funzione cos'è h? ecco qua allora dobbiamo fare f in x più delta x diviso g x più delta x meno f di x diviso g in x tutto diviso delta x questo è il rapporto incrementale ok? adesso prima di andare avanti voglio fare un passo indietro una rivisitazione della derivata anzi questo qua perchè lo sto facendo? ovviamente lo voglio fare ma voglio fare un teorema più facile perchè è quello del prodotto delle funzioni questo si lo posso fare quello del rapporto delle funzioni del quoziente ho bisogno di questa famosa mezz'ora di punti in più ma ho saltato un passaggio facciamolo il prodotto il prodotto è semplice possiamo farlo assieme anzi potrei chiedere a qualunque voi in scelta a caso di venire qua a farlo lui facciamo la funzione h di x uguale a f di x per g di x questo è facile ho bisogno di cose in più o forse si adesso vediamo un attimo scriviamo intanto il rapporto incrementale allora sarà avvenuto eh il rapporto incrementale vi abituo vi esorto a non aver paura di partire da zero scrivete giù la definizione e poi aggiungete condimenti eh partite sempre da questo cos'è o f di x più delta x g di x più delta x questo è questo meno la funzione tutto diviso delta x questi sono i due rapporti incrementali che voglio studiare nel limite per delta x che tende a zero però adesso ho un sono due cose che voglio fare il tempo che mi rimane voglio fare un esempio di fisica di quello che ho fatto finora come ho fatto stamattina nell'idea di già anticiparvi che queste cose servono a fisica e poi devo preparare il terreno per queste due dimostrazioni che anche questo forse mi viene facile se faccio questo piccolo argomento quindi passiamo all'altra lavagna per fare l'esempio di fisica vi ricordo qual'era avete una macchina che si muove lungo una strada rettilinea moto rettilineo e la posizione della macchina varia nel tempo e quindi stiamo studiando la funzione la sua posizione x lungo la strada al variare del tempo immaginate che questo sia il grafico della funzione e vi ho detto che scelto due istanti di tempo t1 e t2 due istanti di tempo vi permettono di calcolare la velocità media perchè la velocità media è un rapporto incrementale scegliete due istanti diversi avrete una velocità media diversa la velocità media è un rapporto incrementale e come ogni rapporto incrementale che io comanda serve avere due punti in ultima analisi in ultima analisi due valori della variabile dipendente allora usiamo la notazione che abbiamo usato appena adesso rinuncio a chiamare questo t1 e questo t2 chiamo questo t e questo t più delta t nella stessa filosofia con cui avevo chiamato questo x avevo chiamato nel grafico matematico x e x più delta x ok quindi il rapporto incrementale della velocità media diventa questa questa è la velocità media nella direzione x nel intervallo t più delta t quindi voi avete il tempo che sta scorrendo ahimè anche se voi siete giovani e infediati che vi essere mortali non lo siete questo è un istante t questo è un istante t più delta t questo è un intervallo di tempo la velocità media è calcolata è associata a quell'intervallo di tempo ed è quindi costruita con il valore della posizione in questo istante qui è il valore della posizione in questo istante e vi calcolate il vostro rapporto incrementale se cambiate il intervallo di tempo sia perchè addirittura tenete fermo un istante t ma cambiate delta t avrete un valore diverso o se tenete lo stesso delta t ma cambiate l'intervallo del tempo cioè cambiate il valore di t avrete un diverso velocità media d'accordo? allora il limite della velocità media che tende a zero quindi semplifico questo disegno cancellando qui adesso questo questa retta che è storta in me quella è la retta tangente alla curva e in questo punto vedete che è tangente d'accordo? è la retta alla quale le rette del rapporto incrementale tendono per delta t che tende a zero ok? è lo stesso disegno che ho fatto nella pagina di matematica semplicemente invece di avere y e x o x e t quindi guardate questo è il punto fisso avete che la retta viene ruotato e cercate di vedere l'intersezione della curva e la retta e il punto di intersezione corrisponde al delta t in questo caso più delta t tende a zero avete questa retta sale, sale molto e poi si assesta questa è la pendenza della retta tangente d'accordo? quindi il limite per delta t che tende a zero ha un valore numerico e quel valore numerico è la pendenza di questa retta ma qua si apre un discorso abbastanza complesso che penso che dirò a fisica piuttosto di adesso questo oggetto qua il limite per delta t che tende a zero della velocità media si chiama scriveremo così per esempio con la notazione dei matematici potrebbe essere x apice nel punto t oppure scriverò così questa è la notazione dei cosmi fisici perchè è un promemoria che questo oggetto è in ultima analisi un rapporto geometrale è un delta x e un delta t questo si chiama la velocità è una parola che userò adesso e mai più forse durante il corso di fisica si chiama velocità istantanea nell'istante t quindi se non è chiaro cosa intendo l'istante t potete anche mettere il pedice qua quindi una velocità istantanea è il limite per delta t che tende a zero del rapporto incrementale chiamato velocità media la velocità istantanea è una derivata la velocità media è un rapporto incrementale quindi quindi la velocità istantanea questa parola istantanea istantaneamente la lascio cadere non la voglio usare più perchè è un prego di tempo la velocità è la velocità velocità media è un'altra cosa la velocità media di quella Ferrari è zero perchè in un'ora lui era là una velocità un'ora dopo è là la velocità media è zero ma la velocità istantanea è un'altra cosa la velocità è un'altra cosa la velocità è la derivata della posizione rispetto al tempo perchè la posizione è una funzione del tempo la velocità media è un rapporto incrementale quindi presuppone due istanti di tempo t2 e t1 presuppone che voi misuriate la posizione in t2 misuriate la posizione in t1 fate la differenza quindi la velocità media è un delta x diviso il delta t questo è l'intervallo di tempo e questo è l'intervallo di spazio conseguente all'aver fatto trascorrere quell'intervallo di tempo ok? quindi questo lo rivedremo meglio in fisica però tutto quello che ho detto stamattina potete riciclarlo in fisica adesso cerco di riprendere qua torniamo alla matematica questa è la mia solita figura ok? consideriamo questo punto qua tracciate decentemente la retta tangente ma la curva in questo punto qua cioè per questo valore della variabile indipendente prendete un righello e cercate di tracciare la retta tangente che più o meno ha questo aspetto qua considerate questo punto qua questo è il punto x più delta x qual è il valore vero della funzione nel punto x più delta x graficamente il valore vero della funzione è questo questo è il valore vero della funzione allora con un gesso di colore diverso magari in giù voglio che considerate non questo punto ma questo punto guardate guardate questo punto qua e questo triangolo con base con quel cateto lì e tutto questo cateto qua ok? questo punto qui si chiama la stima lineare di f nel punto di f di x più delta x ok? questo è il valore vero questo è il valore vero magari io lo so questo è il valore vero questa qua è una stima e mi spiego supponete che voi siete qui conoscete questo scegliete il valore x qualcuno vi da qualcuno vi da x scegliete voi altrimenti x qualcuno ve lo da e supponete che voi conoscete il valore di f di x e supponete che la persona vi dice anche qual è la derivata di f nel punto x anzi mettiamo i pedici ci si capisce meglio questo è il valore fx0 questo è x0 più delta x quindi qualcuno vi da f di x0 e vi da anche la derivata di f nel punto x uguale x0 vi da queste due pezze informazioni e vi dice secondo te caro studente quale sarà il valore di f nel punto x0 più delta x cioè vi chiede vi da solo questa informazione e vi chiede quanto è questo guardate la figura e adesso capite perché ho chiamato a quel punto la stima lineare perché io dico se il valore della funzione è questo e se la pendenza è questa dopo un intervallo delta x un incremento delta x se la funzione non cambiava lui continuava lungo la retta e io per estrapolazione prevedo che il valore sarà qua faccio un tiro a indovinare ma è un tentativo abbastanza intelligente perché io stimo quindi io scrivo che il valore stimato stima e metto la parola lineare forse adesso capite perché dico che è una stima si capisce perché state usando l'informazione qui per anticipare cosa farà f più in là vi state facendo una stima basandovi su informazioni locali qual è il valore della funzione qui questo è f di x0 è sulla pendenza dalla retta gialla il cui valore è la derivata di f in questo punto quindi state usando informazioni qui per prevedere cosa sarà il valore della funzione più in là quindi state stimando ma è una stima lineare si usa la parola lineare perché state facendo una strappolazione lungo una retta lungo una linea state facendo una strappolazione lineare ok? e quindi dal disegno dovremmo essere in grado di capire perché la scrivo così io scrivo il disegno il valore stimato che è questo qui io dico che è il valore iniziale f di x0 più che colore posso scegliere? arancione più questo questo quindi questo in rosso è il valore iniziale vedete? è il valore iniziale più un incremento e quell'incremento è quel cateto giallo o arancione di questo triangolo che faccio magari appunto in giallo di questo triangolo qua quindi questo è il valore in x0 più il cateto giallo quindi questo l'ho fatto in rosso questa è la parte rossa adesso la parte gialla ma voi avete già capito un sacco di cose stamattina di trigonometria quel cateto lì quel cateto verticale è quell'incremento verticale stimata basata sull'estrapolazione lineare seguendo la retta tangente come la scriverei? quando avete un triangolo e questo è un angolo teta e questo è il cateto A e questo è il cateto B com'è B? perchè sapete ormai dal cerchio unitario di stamattina che la tangente dell'angolo è uguale al seno diviso il coseno quindi è B diviso A e quindi anche i sassi ormai hanno capito che B è uguale ad A che moltiplica la tangente di teta e quindi io prendo questo e lo riciclo quindi qual'è la tangente di teta? questa è la derivata nel punto x0 questo qui è quello che i matematici scriverebbero così è che noi scriviamo una derivata di f rispetto x nel punto x0 e questo chi diamo è questo? sto parlando troppo come grillo questo è questo cateto che è cosa? delta x e quindi io scrivo la linea l'estrapolazione lineare come il coefficiente della pendenza della retta gialla nel punto x0 che moltiplica poi la lunghezza di quel cateto orizzontale quello che ho appena scritto è la stima lineare del valore di f nel punto x0 più x basandomi su le conoscenze di f nel punto x0 due informazioni il valore della funzione x0 e la pendenza della retta chiaro? semplice? vi risparmi è una battuta che faccio ma ve lo dico così non lo devo fare a non è una battuta è vero risparmi non devo farlo a fisica quando avevo la vostra età a me piacevano tanto le ragazze anche adesso però scusate e quando capitava da studente e andavo in treno o al bar o a farmi il panino di vedere una bella ragazza io ho sempre invidiato i colleghi maschi che andavano su e si presentavano io avevo un approccio molto diverso molto inefficiente che era di sperare di conoscerla e magari lentamente fare amicizia invece di andare subito a dire vuoi andare a cena allora l'idea era se io vedevo una bella ragazza alle 11.15 al bar dicevo a me stesso qual è la probabilità come faccio a rivederla se era una giornata feriale se era mercoledì io facevo l'ipotesi ogni mercoledì alle 11.15 sarà al bar quindi io alle 11.15 andavo al bar il giorno dopo oppure nell'ipotesi nella speranza che lei fosse ciclica se era su un treno che lei fosse pendolare che credesse lo stesso treno e quindi la battuta qual'è? se questo è e non è una battuta se questo è x zero e voi conoscete il valore della funzione f di x zero qual'è la migliore razionalmente parlando x zero non è matematica questo è psicologia però è anche c'è qualcosa di matematico sotto voi conoscete questa funzione qua conoscete il valore della funzione non conoscete la funzione non è che io conosca la traiettoria della ragazza io so che nel valore x zero la funzione vale questo poi qualcuno mi chiede o io me stesso mi chiedo quanto vale la funzione qui? la minima informazione che avete diciamo la migliore guess come si dice guess in italiano tirare indovinare un guess io provo qual'è la migliore tirare a indovinare? la migliore tirare a indovinare è che la funzione nel punto x sia lo stesso valore pensateci è l'unica cosa su cui potete appoggiarvi ci sono un'infinità di valori che potrebbe assumere però voi avete un pezzo di informazione quanto valeva in x zero e quindi fate la migliore scommessa che avete e di ricredere che abbia esattamente lo stesso valore ecco perchè era basata la mia strategia su questo non perchè l'avevo letto pensateci cosa fate? eccola qua la migliore ipotesi quindi se qualcuno vi da solo il valore della funzione l'unica ragionevole guess l'unica ragionevole tirare e indovinare non è a caso non state tirando a caso state scegliendo un numero sulla unica informazione che avete che di la era passato fosse rimasto la e quindi eccolo qui ma nell'esercizio che io vi sto dicendo conoscete due informazioni conoscete non solo quanto vale la funzione ma quanto vale la derivata e quindi voi con queste due informazioni vedete ok è qui però c'ha una pendenza quindi spero che non dividi da questa retta tangente ecco la filosofia dentro questa stima qua voi state immaginando state sparando la cifra mettete dei soldi sul tau fate una scommessa per quale motivo nell'ipotesi dovreste scegliere questo valore? non c'è nessun motivo quelli sono soldi votati via se voi avete dei soldi e volete fare una scommessa il rischio di perdere è altissimo certo chi vi dice che funziona esattamente lo stesso valore? nessuno ma per quale motivo scegliere questo l'unico punto che salta all'occhio è il valore originario è lì che piazzereste i soldi ed è qui che piazzereste i soldi se avete due pezzi di informazioni qual'è il valore della funzione e a che qual'è la pendenza della retta gialla perchè se la funzione non sta deviando dalla retta gialla quando x sarà questo valore la funzione sarà arrivata qui ok? questa è l'idea delle stime certo che siete aperti a fare degli errori e bisogna tener conto degli errori infatti cerchiamo di fare conto dell'errore qual'è geometricamente l'errore? chi è l'errore qua? geograficamente la funzione vera è questa questo rosso si vede? quel rosso è il valore vero quindi la stima sta sovrastimando perchè la funzione ahimè divia dalla retta gialla non lo segue ma cala quindi in questo momento voi state commettendo un errore l'errore è questo questo è l'errore questa quota qua questa quota qua è l'errore l'errore è il negativo state sottostimando in questo caso sapreste fare un grafico in cui si sottostima la funzione? si pensateci un attimo se la funzione avesse un andamento del genere e voi siete qua e volete stimare il valore della funzione qui e voi conoscete il valore della funzione si intende ma conoscete anche la derivata la derivata cos'è? è la pendenza la retta tangente disegnate la retta tangente eccola qua e provate a estrapolare quale sarà il valore della funzione e in questo punto sapendo che era qui e che aveva quella pendenza che aveva quella retta tangente come derivata voi cosa direte? beh è il valore originale più la salita dovuta alla retta e quindi ecco la vostra stima ma il valore vero è questo quindi avete sottostimato la funzione è deviata dalla retta in per eccesso non per difetto in questo caso l'errore è questa cosa qui questo è l'errore e in questo caso è positivo sono cose molto semplici d'accordo? qualcuno ha sentito parlare del teorema di Taylor? questo vi dovrebbe ricordare se volete se avete che pezzo di informazione in più potreste usare per fare una stima migliore di quella lineare? se avete capito il teorema di Taylor dovrei essere in grado di rispondermi se no è un teorema che avete imparato a memoria magari sapete fare degli esercizi per superare lo scritto e l'orale però io sto cercando di passarvi del senso del perchè fate le cose qual è un pezzo di informazione? allora in questo disegno qui cosa c'era? qua c'era solo la mia conoscenza che la ragazza era le 11 e un quarto in quel bar o che il valore della funzione è fx0 qua l'informazione in più è che non solo conosco la funzione ma conosco la pendenza alla retta gialla che è la derivata prima ma il teorema di Taylor invoca derivate di ordini superiori no? la seconda, la terza vediamo f di x0 più delta x cos'è? beh la prima stima quello che applicavo Wiss da giovane è che è proprio il valore originario poi se qualcuno mi da la derivata del punto x0 io riesco a fare la stima migliore perchè la derivata mi da questo cateto qua no? questa è la tangente dell'angolo moltiplicato per la base del triangolo quindi questo è di quanto sia alzato quel triangolo a partire dal valore iniziale valore iniziale più il contributo del triangolo costruito con la derivata cos'è allora? è la derivata uso la notazione dei matematici voi avete usato questa notazione dei matematici? o questo qua? usavate questo? si ok allora lo uso così almeno riconoscete il teorema questo sarebbe quindi la stima lineare con la notazione che voi conoscete sarebbe questo f di x0 più f primo in x0 per delta x il terzo termine di Taylor? in realtà cos'è il 2 fattoriale e il terzo termine? derivata terza? eccetera 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 è un teorema veramente bello perchè mi si dice se io conosco la funzione in un punto x0 non solo il suo valore ma le sue derivate riesco a prevedere con precisione arbitraria dove sarà quale sarà il valore della funzione in un altro valore x questo è sperare che la ragazza toglie lo stesso bar questo è fare uso del fatto che conoscete la pendenza e la retta e quindi sperate che la funzione non dv questa è un contributo di una quadratica questa è una parabola questa è una costante e questo è delta x al quadrato ok? comunque a me prende questo discorso qua delle approssimazioni lineari e quadratiche perchè la stima quadratica sarebbe f di x0 più delta x stima quadratica avrebbe anche questo ok? non lo stime volete la stima migliore? prendete il prossimo pezzo del teorema di Taylor volete la stima migliore? un altro oppure potete anche fare una cosa che i fisici fanno molto spesso e gli ingegneri è quello di dire ok? dunque faccio uso di questo disegno però è troppo siete ancora con me? o siete morti? guardate facciamo che questo sia il punto fisso questo sia la no, rifaccio il disegno di prima così che era qua su volevo fare il caso della sovraschema quindi la retta tangente è questa più o meno ok? questo è x0 questo è il valore della funzione e supponete che io voglio avere un'informazione su qual è il valore della funzione in questo punto qua quindi con questa scelta di delta x come vi ho già detto la stima lineare è che la funzione io stimo che viene qua in realtà la funzione è qui quindi ho commesso un errore ok? qual è l'errore relativo? l'errore è questo qui sapete cos'è l'errore relativo? l'errore relativo potrebbe essere l'errore se questo è un errore lo scrivo in rosso errore quindi potrei scrivere che l'errore relativo è uguale all'errore che so diviso il valore mettiamo il valore vero f di x0 più delta x vero si intende quanto è secondo voi? guardate il disegno il valore vero è questo questo è l'errore che sto commettendo allora quanti di questi stanno nel valore vero? allora faccio uno due tre quattro cinque sei sette quindi l'errore relativo è un settimo cos'è un settimo? in percentuale quindi questo è un certo numero che è uguale a un settimo potrebbe essere tanto o poco per esempio è chiaro che se io scelgo un delta x è ancora più grande la mia stima lineare è questo ma il valore vero è questo che errore ho commesso là? molto più grande l'errore è più grande ma l'errore relativo è molto grande perchè il valore l'errore è questo e il valore vero è questo e questo è quasi il 50% io ho sentito Dvv, non è il mio? si era il mio l'errore qua è quasi uguale al valore della funzione è quasi 80% non 50% guarda guardate questo questo è un errore grosso certo vedete che è un errore grande ma il modo corretto per capire le conseguenze di commettere un errore è di ragionare in un rapporto tra l'errore che state commettendo e il valore vero allora in questo caso quando scelgo questo delta x ho questo diviso questo vedete che è circa 0,8 sto commettendo un errore dell'80% sto sovrastimando ma se io mi sposto qua commetto sì un errore ma l'errore non solo è più piccolo ma l'errore relativo è più piccolo se io voglio un errore relativo più piccolo cosa devo fare? scelgo delta x più piccolo se io mi metto qui la funzione estrapolata è questa il valore vero è quello vedete che non riesco neanche a voi non riuscite neanche a vedere a risolvere per la grossezza del gesso l'errore quindi l'errore qui che errore relativo è? quanti di questi piccolini stanno il segmento verrà fuori 1 su 30 quindi per delta x che tende a 0 cosa succede all'errore? l'errore diminuisce da un errore più gigantesco l'errore diventa sempre più piccolo l'errore più piccolo più piccolo ma è l'errore relativo che dovete guardare l'errore relativo deve essere molto grosso sto cominciando a commettere errori astronomici gli astronomici sono contenti se individuano una galassia una distanza di più o meno 50% invece per esigenze industriali se devo fare un errore di precisione carpenteria di precisione devo commettere errori che siano di una parte su mille per avere un errore che sia una parte su mille io devo avere un delta x molto piccolo qua giù potrei avere errori sto commettendo un errore così piccolo che lo posso trascurare quindi la mia stima è buona se delta x è sufficientemente piccolo cioè quello che sto cercando di dire è che il teorema di Taylor voi in teoria se la funzione non è patologica avete un'infinità di termini e potreste scrivere questo con arbitraria precisione ma un ingegnere o uno scienziato spesso si accontenta della stima lineare quindi ignora questi pezzi sa bene che sta commettendo un errore ma l'errore può essere messo arbitrariamente piccolo se delta x la fate sufficientemente piccolo volete un errore del 10%? ci sarà questo è un delta x che vi da un errore del 10% questo errore qui sul totale sarà una parte su 10 forse qualcosa di più quindi volete dire che questo è un delta x che vi da un errore cioè la stima lineare vi da un errore del 10% volete non potete tollerare l'errore del 10% troppo grande 1% allora se volete usare la stima lineare e avere errori solo del 1% non potete avere un delta x così grande dovete avere delta x che siano più piccoli che so questo 1% è troppo grande volete errori del 1 per 1000 scegliete delta x più piccolo quindi per ogni errore che voi siete disposti a tollerare c'è un delta x sufficientemente piccolo che ve lo assicura vi è entrato in testa questo? allora guardate qua sarebbe un peccato dover riprendere questo domani probabilmente lo rifarò ma voglio farlo adesso lo rifarò domani perché sto correndo finora ho fatto tutto giusto questo è il prodotto questo è il rapporto incrementale adesso uso l'idea della stima siccome io voglio fare lo studio della derivata della funzione di h in ultima analisi io proprio quello che farò è di fare delta x sempre più piccoli quindi fare uso della stima lineare è proprio nella direzione in cui io voglio comunque andare perché voglio fare delta x che tende a 0 quindi questo signore qua io posso approssimarlo quindi posso scrivere al posto di questo la stima quindi questo diventa f di x qual'era la stima? era il valore della funzione più questo qua sto usando questo ok? il valore della funzione quindi meglio scrivere una parentesi più la derivata prima in x uso la notazione dei matematici per delta x quello che ho appena fatto è la stima di questo pezzo so che ho commesso un errore questo in realtà dovrei fare così ma è un errore che diventerà arbitrariamente piccolo proprio nel limite che io sto facendo lo studio io sto studiando il comportamento di questo rapporto incrementale nel limite che delta gli estende a 0 quindi quell'errore che so di commettere diventerà arbitrariamente piccolo nel limite finale quindi questo diventa questo questo farò la stima quindi qual'è la stima lineare? è il valore del punto iniziale più l'estrapolazione lineare qual'è l'estrapolazione lineare? è la pendenza della derivata cioè il coefficiente angolare della retta tangente moltiplicato per il cateto orizzontale che è delta x questo è g' x quello che ho scritto è il coefficiente angolare della retta moltiplicato per il cateto orizzontale che è delta x poi questo e tutto questo diviso da delta x adesso espando con i trucchi dell'algebra che conoscete bene questo è per questo più questo per questo più questo per questo meno adesso questo è un uguale non è più una stima la stima è qua questa è proprio la manipolazione di questo quindi f di x g di x più f di x delta x ha moltiplicato questo g primo di x delta x più questo per questo che è f primo di x g x delta x poi questo per questo che è f primo di più svegli hanno già visto che bello che bello funziona è proprio il teorema che lo conosco da anni quelli che non sanno cosa sto facendo devono essere allarmati so che siete stanchi però è anche se questo va via con questo e a questo punto ho quanti addendi? 1 2 3 divido questo delta x verrà ucciso da lui questo delta x verrà ucciso da lui uno di questi delta x solo uno verrà ucciso da lui e quindi ho f di x g primo di x più f primo di x g di x più questo pezzo che è un infinitesimo questo è la stima del rapporto incrementale di quella funzione h che è il prodotto di quella funzione è una stima questo non è il valore vero è una stima è una stima che può essere resa arbitralmente buona se scelgo un delta x sufficientemente piccolo adesso studio il limite di questo per delta x che tende a zero delta x che tende a zero mi ammazza questo questo di delta x se ne frega questo di delta x se ne frega questo muore conclusione la derivata di f moltiplicato g è uguale a f che moltiplica g primo più f primo che moltiplica g quindi è il teorema che potreste sapere che la derivata del prodotto delle funzioni è uguale alla derivata di uno per l'altro non derivato e non so neanche del libro in italiano ci rinuncio perchè è più facile scrivere visto che è facile a patto che uno capisca cos'è una derivata e la storia della stima lineare è la vera pancia della derivata se questa è la fruzione in un punto e voi conoscete la derivata potete provare a stimare cosa sarà ad altri valori di x certo che commetterete un errore l'errore è questo però quell'errore diventa arbitrariamente piccolo più vi avvicinate a delta x scusatemi a x0 e quindi in ultima analisi questa qua diventa una fantastico strumenta che useremo ripetutamente in fisica che la stima della funzione in fisica la posizione in un istante t più delta t io la stimerò a partire dal valore della posizione iniziale metto i perici t0 così è più facile per voi più una estrapolazione lineare dove si troverà la particella tra un minuto? no beh dove si trova nell'istante t uguale 0 più il contributo dovuto al fatto che si muove quindi dove si troverà nel futuro si trova dov'era nel passato più il contributo di un'estrapolazione lineare di dove sarebbe se continuasse la sua velocità senza cambiare la velocità siccome la velocità è la derivata state sperando che la particella non cambi la sua velocità non vada non acceleri o non freni se continuo ad andare a 30 all'ora se io sto camminando e sono qui in questo istante dove sarò tra un'ora? se io so che sono qui e sto andando a 30 all'ora io so la stima è che sarò a 30 km di là a patto che la velocità non sia cambiata tutto lì e o non è una sciocchezza? quindi come la scrivo? come questo benedetto questo è il coefficiente angolare della pendenza e questo è la larghezza del cateto orizzontale quindi in fisica questo diventerà la larghezza del del cateto orizzontale che è il tempo l'intervallo di tempo e il coefficiente angolare cos'è? è la velocità nell'istante t0 quindi la scriverò come la derivata x rispetto a t nell'istante t uguale t0 questa è la forma che gente che viene all'orale non sa c'è qualcosa di misterioso? no è matematica qual'è il valore della funzione? è il valore iniziale più un'estrapolazione di dove sarà la stima è buona se non esagero nel pretendere che mi preveda dove sarà la particella in tempi io sto andando a 30 all'ora in quella direzione dove sarò tra due ore? cominciamo 30 all'ora 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 si è passato 10 minuti tra due non arrivo mai a tra due ore la stima si basa su tante ipotesi non ho nessun motivo di credere che la velocità non devi infatti dire che continua per sempre in questo caso che è una funzione che va così è un'autentica puttanata la funzione voi credete che la funzione invece sta precipitando avete commesso commetterete un errore spaventoso se voi credete veramente di usare l'informazione qua per prevedere dov'è la funzione qua giù magari la funzione qua giù sta andando e voi eh è lassù è un errore spaventosamente grande quindi non dovete esagerare nel valore di delta x o di delta t va bene ci vediamo domani scusate se ho spaventato Grazie a tutti